Ciao, sono Francesco. Ci troviamo nel punto vendita di insalaterie frutte e verdura all'interno delle gru. Da noi potete trovare frutta di prima scelta italiana, dalle fragole alle ciliegie, alle verdure e anche alle insalate che potete comporre voi oppure potete affidarvi a me. Caricando l'app Io e le gru avrete in omaggio, acquistando la nostra insalata, una bottiglietta di acqua naturale o gasata. Il consiglio dell'insalateria per insaporire le vostre insalate è quello di aggiungere dei semi di papavero.